Sarnataro, vada solo! Sarnataro, può calciare, Murato, palla che diventa buona dall'altra parte per Altieri, Altieri, se ne va, calcia con la punta! Salva Valentino! Calcia di punizione, la traversa, colpita, apre per De Vita, può calciare, De Vita! La rete di De Vita, l'assist di Iodice, arriva il vantaggio del Neapolis, calcia di punizione, c'è il tocco, palla che resta lì la rete! Il raddoppio del Neapolis con Iodice, palla al centro e tutto solo, Poncella! Sempre lui! 3-0 Neapolis! Salta a tutti, una volta sul fondo, poi che succede? Si addormenta, allora Poncella, salvataggio! Ma mamma, che affare, Rivella! Poncella, entra in aria, calcia, il palo, palla che resta lì, se ne dibatti e ribatti! Gioco da guerra, arbitro! Finisce qui il primo tempo, punteggio di 3-0 in favore del Neapolis Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo del match tra Neapolis e Assort I Neapolis sono in vantaggio per 3 reti a 0 Il primo tempo senza storia, vedremo se questa ripresa dovrà offrirci maggiori emozioni Lunghissima, cerca la pancia, che alta Poncella, non trova lo specchio di un soffio Porta vuota, Iodice, mette dentro il gol del 4-0, doppietta per Iodice Occhio, De Vita può calciare! De Vita, 5-0, esplode lo Juventus Stadium A te riesce a fare il mio piede e piede Attenzione alla buccia! Che buccia clamorosa Esposito, va da solo, Esposito Ottimo il pallone filtrante ed è Stasio! L'uscita di Calabro Alla che resta lì, Polsella La rete del 6-1 Conclusione, la rete Il 6-2 Il gol di Castellano De Vita De Vita La rete Del 7-1 Tripletta per De Vita Vado al centro, la conclusione, Altieri l'autogol di Valentino Finisce qui con l'autogol di Valentino, il punteggio sul 7-3 Come ha segnato? No, prima ha fatto un'altra cosa C'è un contrattile di domenica, grazie De Vita De Vita Eccoci con De Vita Il migliore in campo del match vinto dalla Neapolis per 7-3 Un'altra grande vittoria per voi Una partita dominata sin dal primo minuto Un'ottima prestazione alla tua tripletta Oggi, soddisfatto della tua partita? Sì, soddisfatto del gioco per la squadra Dobbiamo cercare di arrivare i primi E così guarda Quindi ci credete a questo primo posto? Siete fiduciosi? Fiduciosi, sì Perfetto Allora, ve lo auguro